Processi e indagini portarono sul rogo centinaia di persone tra il 200 e l'inizio del 300, mentre nel 400 furono le streghe le più perseguitate dal Tribunale di Fede. L'inquisizione medievale era in mano quasi sempre a frati domenicani o francescani. La sua potenza fu tale che permise al Papa e alla Chiesa di eliminare quasi totalmente l'eterodossia, ovvero l'esistenza di individui e gruppi che si opponevano all'ortodossia, la vera fede secondo il punto di vista papale. Ma la storia dell'inquisizione non finì con il Medioevo e la scoperta dell'America. Nel 500 nuove emergenze resero necessario l'intervento degli inquisitori.